Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla FIPILI. Possibili disagi per lavori tra Empoli Est e Ginestra Fiorentina in entrambe le direzioni. Si ricorda che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza tra Montelupo e Ginestra con restringimenti. Percorsi alternativi sulla strada provinciale 12 o per i viaggi più lunghi sull'autostrada 11. Sempre in FIPILI per lavori è chiusa l'uscita di Tirrenia provenendo da Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata tra San Casciano Nord e Impruneda in direzione Firenze. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!